Senti questa persona cosa dice un grande amico mio oggi San Domenico vi sto portato in questa carrozzina così non sembra una cosa male Ciao Vieni a te Vieni a te Tocco il botone San Domenico vi sto portato con questa carrozzina penso che non fa bene dopo una bella tradizione anni e anni portati sulle spalle ma è invalido è invalido conferma lei signor Franco è invalido è il prossimo anno i giovani si portano in carrozzina bravo ma io gli ho fatto la domanda come mai ha detto che i giovani non li vogliono portare più non è vero non è vero perché San Domenico la tradizione è portarlo ripeto sulle spalle ma per la parola c'è la dittatura quello che dice non deve stare citto perché è giusto solo che dice lo che dice nero e poi queste adesso sono fatti pure in tradizione quello che dicono loro deve stare citto perché è legge prepara se prenda frusta e l'anato non c'è problema che scattiamo a tutti quanti e poi con le spine come alcune parole suonano i fatti suonano i frusti di ranati ci dobbiamo svegliare non dobbiamo più dormire quando ne prepari? 30 e che cosa? fruste di ranati e li dobbiamo vetticare a destra manca il per cento a tutti i pizzi mi dà sì non è giusto queste carrozze dopo l'era amplicata con il bastone camminare per le vecchie se no meno abbonare te giungo quello che mi hanno fatto restaurare per l'ubello quella carrozzella non va bene basta basta l'intervista è l'ubello del chillo che l'avevi di soffrire a lo portare per devozione ecco ma allora perché forse la carrozzella c'è delle coincentive della Fiat 4.000 euro non sappiamo però chi ora registrare ciao arrivederci grazie fra poco fra 5 minuti grazie